La magistratura è autonoma e indipendente non per mera prerogativa della categoria. Questi sono valori che servono per rispettare il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e consentono di tutelare il più debole nei confronti del più forte in caso di contrasti. Gen Antonio Chiarelli è componente del Consiglio Superiore della Magistratura, al cui interno, oltre al lavoro ordinario di gestione, svolge la funzione di componente della sezione disciplinare. Il giudice Chiarelli è di Martina Franca e nell'ambito delle attività di promozione della legalità organizzate sul territorio ha incontrato gli studenti dell'Istituto Leonardo da Vinci per un incontro dal tema Il giudice di fronte ai mutamenti sociali. Parlare di legalità è importante parlarne sempre con tutti. Ciò che si osserva nella società quotidianamente, con i social, con tutti i mezzi di comunicazione, ci fa capire che evidentemente c'è bisogno di un intervento in questa direzione. Innanzitutto dobbiamo pensare che i ragazzi, i giovani saranno la classe dirigente del domani, saranno i cittadini del domani, saranno i cittadini che dovranno impegnarsi in politica e nelle rispettive attività. E quando occorre costruire e mantenere salda una società, una società fondata sui principi della nostra Costituzione, penso che sia importante diffondere il concetto di legalità, il concetto del rispetto dell'istituzione, il concetto del rispetto delle regole, spiegare anche qual è magari la funzione del magistrato.